Beautiful, ecco le anticipazioni per la puntata di domenica 1 settembre, Finn sorprende Steffi con un dono speciale, mentre Deacon prova un enorme imbarazzo, ecco perché. L'attesa puntata di Beautiful di domenica 1 settembre, dopo le scorse, promette grandi emozioni e colpi di scena. La celebre soap opera americana, che da anni appassiona milioni di telespettatori in tutto il mondo, continua a regalare momenti di intensa drammaticità e tenerezza. E l'appuntamento di domani non farà eccezione, portando avanti alcune delle trame più intricate e amate dai fan. In particolare, il rapporto tra Finn e Steffi, è sempre stato caratterizzato da momenti di grande passione e profondità emotiva. Dopo aver superato insieme innumerevoli ostacoli, la coppia ha finalmente trovato un po' di serenità. Il medico non è mai stato il tipo da dare per scontato il suo amore per la figlia di Ridge, e nell'episodio in onda tra poche ore lo dimostrerà in un modo davvero inaspettato. Finn ha deciso di sorprendere Steffi con un gesto che risuonerà letteralmente nel loro futuro insieme. Ha fatto installare delle autentiche campane nella torretta della loro abitazione. Non si tratta di semplici campane decorative, ma di un simbolo potente e significativo. Sono identiche a quelle che suonarono nell'istante in cui i due si sono riabbracciati dopo un lungo e doloroso periodo di separazione, nel quale lei credeva di averlo perso per sempre. Beautiful, anticipazioni di domani. Cosa succede nella sopopera domenica 1 settembre 2024? Parallelamente, un'altra storyline si sviluppa intorno a Hope e Deacon. Nella puntata di domani, la figlia di Brooke si reca al ristorante e il giardino per incontrare suo padre. La giovane Logan è desiderosa di congratularsi con lui per il ruolo che ha svolto nella cattura di Sheila Carter, un evento che ha avuto un impatto significativo sulla vita di molti personaggi della sopop. La moglie di Liam, con il cuore colmo di gratitudine e orgoglio, esprime al genitore la sua ammirazione. Gli dice di essere fiera di lui, riconoscendo il suo contributo decisivo per porre fine alle malefatte della Dark Lady. Tuttavia, questo momento di gioia e orgoglio per Hope è accompagnato da un profondo imbarazzo per Deacon. L'ex Galeotto, infatti, è tormentato da un segreto che la figlia ignora. La natura della relazione che ha avuto con Sheila. Consapevole delle implicazioni di questo legame, lo Sharp cerca in tutti i modi di minimizzare il suo ruolo nell'arresto della Carter, senza però riuscire a nascondere una sorta di pietà nei confronti della donna. Quest'ultima, che ora affronta il resto della sua vita dietro le sbarre, ha anche rischiato di perdere la vita a causa di un arresto cardiaco. Il suo ex non può fare a meno di riflettere su quanto sia complicata la situazione, provando un mix di rimorso e compassione.